L'impresa di Giuseppe Bica è partita questa mattina, poco dopo le 10, dal piazzale dell'Azzaretto di Trapani, proprio davanti alla Colombaia. Il suo sarà un viaggio lungo tutto lo stivale, da sud a nord, per promuovere la cultura della mobilità sostenibile. In tutto percorrerà qualcosa come 3.000 km da Trapani fino a Lugano e dalla sua bicicletta Bica, ideatore del progetto, oltre a diffondere un messaggio di attenzione all'ambiente, porterà avanti una raccolta fondi in favore di medici senza frontiere. Tutto lo stivale è una pedalata di 3.000 km lungo tutto il bel paese. Vogliamo sensibilizzare la cultura del muoversi in modo green e con l'occasione raccoglieremo dei fondi per medici senza frontiere. Questa avventura è una delle tappe che vanno dai 120 ai 150 km di giornalieri, con disivelli tra i 1.000 e i 2.000. La particolarità è che viaggio con un team di congiunti, la mia famiglia. Ogni sera troverò rifugio nel nuvolone, ogni mattina lo saluterò e poi lo ritroverò alla sera percorrendo tutto il paese. Grazie.